I messaggi che dagli altoparlanti della stazione ferroviaria di Roma Termini hanno tranquillizzato i viaggiatori sono arrivati dopo quasi un'ora di paura e allarme scattato nella serata di lunedì dopo la segnalazione di un uomo armato, prima in metropolitana e poi in stazione. L'arma si è rivelata essere un fucile giocattolo con tanto di tappo rosso identificativo ma prima che la circostanza venisse chiarita sono intervenute le forze dell'ordine, la stazione è stata evacuata e chiusa per sicurezza, sono stati bloccati il traffico ferroviario e le strade circostanti. L'uomo ricercato è poi riuscito a salire su un treno per ananni dove è stato fermato da un carabiniere in borghese che ignaro dell'allarme scattato a termini l'ha lasciato andare una volta constatato che imbracciava solo un'arma giocattolo.